Israele e Hamas verso la tregua e lo scambio di prigionieri, accordo ad un passo, Netanyahu convoca il governo per il via libera, decisiva alla mediazione del Qatar. E' durata 22 minuti l'agonia di Giulia Cecchettin, le carte dell'inchiesta svelano nuovi dettagli, il suo ex fidanzato Filippo Turetta sarà estradato in Italia nei prossimi giorni. Il 10% degli automobilisti gira video con il cellulare mentre guida una ricerca dell'ANAS, svela le cattive abitudini degli italiani al volante. Addio ad Anna Kanakis, modella, attrice e scrittrice, aveva 61 anni, padre greco e madre siciliana, è stata la più giovane Miss Italia della storia, per un breve periodo è entrata anche in politica. Buonasera, edizione delle 20 e 30 del TG 2000, accordo vicino, giorni di tregua in cambio di ostaggi, Israele e Hamas sono ad un passo dall'intesa, è stata decisiva la mediazione del Qatar, sentiamo Massimiliano Cochi. Riuniti davanti al Ministero della Difesa Tel Aviv, i parenti degli ostaggi accendono candele e fanno volare palloncini gialli, aspettano che il gabinetto di guerra, convocato dal premier Benjamin Netanyahu, dia via libera all'intesa con Hamas per la liberazione di una parte dei circa 240 ostaggi. Stando alle indiscrezioni di stampa, Hamas e gli altri gruppi jihadisti rilascerebbero una cinquantina di ostaggi israeliani, donne e bambini catturati durante l'attacco del 7 ottobre. In cambio, Israele concederebbe quattro giorni di tregua e la liberazione di 300 palestinesi detenuti nelle proprie carceri, anche in questo caso donne e minori. Nei giorni di tregua, inoltre, Israele si impegnerebbe a interrompere il solvoro della striscia con i suoi droni, che raccolgono informazioni su quanto accade sul terreno e a consentire l'ingresso di 300 camion con cibo, carburante e aiuti umanitari. Allo stesso tempo, Hamas dovrebbe invece localizzare tutti gli ostaggi che si trovano nella striscia, anche quelli in mano ad altri gruppi, di cui ha perso traccia. Questo ragazzo è il cugino di uno degli ostaggi e dice che l'unica cosa da fare per avere giustizia è riportarli tutti a casa, ma sa che è difficile, anche se si dice fiducioso. Quest'uomo spiega invece che il figlio a 26 anni ha una malattia cronica per la quale deve seguire una terapia. È giusto che si cominci dalle donne e dai bambini, ma spero che il prossimo scambio sia con le persone malate. Contrario allo scambio di prigionieri, si sono detti invece i ministri israeliani dell'ultradestra, in particolare quello delle finanze, Bezahel Smotrik, e quello della sicurezza nazionale, Ben Gvirra, chiedono di proseguire la guerra fino alla completa distruzione di Hamas. La notizia della tregua è attesa invece a Gaza, dalla popolazione civile estremata dai bombardamenti e da condizioni di vita sempre più difficili. Le agenzie delle Nazioni Unite parlano ormai di situazione sanitaria catastrofica, con il rischio sempre più vicino di epidemie che avrebbero effetti disastrosi. E con la nostra corrispondente adesso andiamo in Cisgiordania e vediamo l'effetto della guerra nella città di Ramallah. Alessandra Buzzetti. Sreili bombarda gli ospedali perché vuole costringere ad evacuare gli abitanti e distruggere tutte le infrastrutture di Gaza City, si chiama pulizia etnica. Non stanno attaccando solo Hamas, ma tutti i palestinesi, a Gaza e qui in West Bank. Dal suo ufficio di Ramallah ha usato Niduri Mustafa Barghouti, medico di professione, leader del terzo partito palestinese della resistenza non violenta. E' stato il mediatore senza successo per un governo di unità nazionale tra Fatah e Hamas. Non vorrei vedere nessun bambino morire né palestinese né israeliano. Noi vogliamo la soluzione di due stati, ma per l'Occidente e per gli Stati Uniti è diventato un cliché da usare per ripulirsi la coscienza, per il fatto che non fanno nulla. E poi siamo noi a dover decidere chi ci deve governare. Non abbiamo bisogno di un dittatore, ma di un sistema pluralistico per una sana trasformazione democratica. Hamas fa parte del sistema politico palestinese. Israele lo sta disumanizzando poi fatti del 7 ottobre, ma riuscirà a distruggerlo con la guerra, ne dubito fortemente. Qui siamo all'interno del compound presidenziale a Ramallah, dove vengono tutti i leader ad incontrare il presidente Abu Mazen. Secondo un recente sondaggio, solo il 22% dei palestinesi si aspetta che a governare Gaza attorno all'autorità palestinese, la cui leadership ha sempre meno consenso tra la gente che la accusa di passività e corruzione, aumenta invece la radicalizzazione dei più giovani. I giovani hanno bisogno di avere una speranza per il futuro, altrimenti o se ne vanno o diventano violenti. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è l'unico interlocutore legittimo per sedersi a un tavolo di trattativa. Se i leader mondiali, a partire dagli Stati Uniti, fossero seri, che dovrebbero immediatamente fermare la guerra di Israele e non supportarla. Ha lottato 25 minuti prima di morire. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sulla morte di Giulia Cecchettin. Il suo fidanzato sarà estradato nei prossimi giorni. Barbara Masulli. Un drappo rosso sul municipio di Fossò, il comune dove Giulia Cecchettin è stata accoltellata a morte, e poi scarpette rosse su una panchina rossa, sulla quale è segnato il numero antiviolenza e antistalking, il 1522. Sono alcuni modi per ricordare la giovane uccisa da Filippo Turetta per dire basta ai femminicidi. Nelle scuole italiane c'è chi ha scelto di osservare un minuto di silenzio per Giulia e chi invece ha preferito fare rumore. Dalle indagini intanto emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell'omicidio. Filippo Turetta avrebbe messo del nastro adesivo sulla bocca della ragazza. Lo scotch è stato trovato dai carabinieri vicino alla macchia di sangue nel parcheggio della zona industriale di Fossò, dove Giulia è stata accolpita a morte e dove le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'aggressione. Ma già prima, a soli 150 metri da casa, Turetta le avrebbe inferto alcune coltellate, oltre che dei calci. La studentessa di ingegneria biomedica, secondo gli inquirenti, sarebbe morta dissanguata. Le indagini su questo femminicidio stanno mettendo in luce, scrive il GIP, l'inaudita gravità e la manifesta disumanità del delitto commesso da Turetta, accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Per il giudice, Turetta deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale, perché potrebbe uccidere altre donne. In questo momento l'assassino si trova in isolamento nella prigione di Halle, in Germania. Il nostro paese ha fatto richiesta di estradizione e la procura tedesca, poco fa, ha fatto sapere che sarà consegnato in alcuni giorni. Dobbiamo segnalarvi ancora un altro episodio di violenza sulle donne, accaduta ad Erba, in provincia di Como. Una 23enne oggi pomeriggio è stata aggredita dall'ex fidanzato, che le ha gettato dell'acido muriatico sul volto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, la donna è stata trasportata in un codice giallo in ospedale, ferito in modo lieve l'uomo che è intervenuto in soccorso della giovane. Secondo le prime informazioni, l'aggressore era già stato arrestato per stalking lo scorso agosto. Non pienamente in linea, cambiamo argomento, con le raccomandazioni del Consiglio europeo, il documento di bilancio presentato dall'Italia. Così si è espressa a Bruxelles. Il commissario Gentiloni però precisa, non si tratta di una bocciatura. Augusto Cantelmi. Non pienamente in linea con le raccomandazioni dell'Unione via libera con riserva di Bruxelles alla manovra economica dell'Italia pesare il mancato utilizzo dei risparmi accumulati per abbattere il debito pubblico, motivo per cui Bruxelles chiede a Roma di essere pronte a introdurre le misure necessarie a cominciare dalla riduzione della spesa pubblica. Nella stessa condizione sono anche Germania e Olanda, mentre il giudizio inviato alla Francia è assai più netto di fatto una bocciatura. Per il commissario all'economia Gentiloni, tuttavia, il giudizio sull'Italia non rappresenta una bocciatura, ma un invito alla prudenza. Non una bocciatura, ma un invito in quelle due direzioni. Immediata la reazione delle forze politiche, per Tagliani c'è ancora tempo, per un confronto con l'Europa. Non riguarda decine di paesi dell'Unione europea, non è che una cosa che riguarda solo l'Italia. Critiche dalle opposizioni. Il giudizio sulla manovra è un giudizio sulla manovra che ha il fiato corto. La guerra in Ucraina visita l'ampo a Kiev del Presidente del Consiglio europeo, Michel, al centro dei colloqui con Zelensky, l'ingresso di Kiev nell'Unione. Federico Plotti. Una visita veloce, quella del Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Kiev. Al centro dell'incontro con Zelensky, il processo di adesione all'Unione dell'Ucraina, in vista del prossimo Consiglio europeo di dicembre, in cui i leader dei paesi membri dovranno decidere se dare il via libero o meno all'apertura dei negoziati. Visita l'ampo anche per il Ministro della Difesa, tedesco Pistorius, arrivato per ribadire il supporto anche economico della Germania all'Ucraina. Sostegno che invece l'Ungheria vuole mettere ai voti. Il primo ministro Orban ha lanciato infatti una consultazione nazionale, che non sarà però vincolante, in cui, tra varie domande, si chiede anche ai cittadini ungheresi se siano d'accordo o meno con gli aiuti militari e finanziari da parte dell'Europa. Intanto prosegue senza soluzione di continuità. La guerra in Ucraina è giunta ormai al 636esimo giorno. I fronti più caldi restano quello orientale e quello meridionale. Oggi attacchi russi con missili e droni anche di produzione iraniana. Denuncia Kiev colpito un ospedale nel Donetsk, almeno un morto e diversi feriti. Combattimenti anche più a sud, nei pressi di Kherson, dove un attacco ucraino ha fatto strage di soldati russi, tutti appartenenti a una brigata di marina di stanza nella città contesa ormai da mesi. Il 10% degli italiani gira video con il cellulare mentre guida. Il dato emerge da una ricerca dell'ANAS sulle nuove e pericolose abitudini al volante. Alessio Orlandi. Alla guida di un'auto, in sella a uno scooter, a bordo di camion o autobus, il 10% degli italiani, secondo una ricerca presentata oggi da ANAS, mentre al volante gira un video con il cellulare. Tra questi, il 3,1% di cui fanno parte in pari misura sia uomini che donne, ed è compresa tra i 24 e i 44 anni, ha dichiarato di averlo fatto personalmente, il restante 6,9% di essere stato su un veicolo mentre il conducente filmava. La distrazione è legata sicuramente a quello che oggi è il nostro modo di vivere, la vita, lo stile di vita, quindi questo essere i pier connessi con questo benedetto telefonino che ci accompagna. Tra i comportamenti scorretti spicca anche il non utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto dei passeggeri posteriori, il superamento dei limiti di velocità e il mancato uso delle frecce, sia nel sorpasso che nelle manovre di rientro. Fondamentalmente bisogna avere più rispetto della vita, della vita propria, della vita degli altri e nel momento in cui tu sei più attento sulla strada, secondo me sarai anche un miglior padre, un miglior compagno di lavoro, un miglior amico. Il crollo di un tunnel li tiene intrappolati da 10 giorni sottoterra, ma stanno bene. I 41 operai indiani ricevono cure e cibo. Il progetto per riportarli alla luce è pronto. Sentiamo Piero Achille Dolfini. Salutano e sorridono dallo schermo. Stanno bene i 41 operai intrappolati da 10 giorni in un tunnel stradale in costruzione nello stato indiano del Luttarkand, franato la mattina del 12 novembre, bloccando i lavoratori. I soccorritori sono riusciti a raggiungerli con una telecamera endoscopica usata per gli interventi chirurgici per rassicurare i parenti che stazionano da più di una settimana fuori dal cantiere. Stiamo predisponendo un tunnel di evacuazione, stiamo creando luoghi sicuri per gli operai e per i soccorritori all'interno del percorso, perché questo sito è ancora un ambiente estremamente pericoloso, dice Arnold Dix, presidente della Società di Costruzioni. Il tubo, che ha permesso di calare la telecamera, ha anche portato il primo pasto caldo ai 41 intrappolati. Ora che li ho visti mi sento molto sollevato e non sono preoccupato per quanto tempo ci vorrà per portarli fuori. Mio fratello ne uscirà sano e salvo e ne sono felice, dice il fratello di un operaio intrappolato. Chiesto a mio cognato se stanno bene, mi ha detto di sì, spiega. Invece è questa donna. Non conosce sosta al lavoro dei soccorritori ed è pronto un progetto alternativo per liberare gli uomini attraverso un tunnel verticale. Nuova ondata di maltempo sull'Italia. Il ciclone invernale in arrivo dal nord Europa colpirà prima il centro e poi il sud dello stivale. Oggi allerta gialla in otto regioni. Alessandra Camarca. L'inverno bussa le porte, lo fa con vento, freddo e piogge intense. Sarà il maltempo il protagonista di questi ultimi dieci giorni di novembre. Nella capitale è già arrivata la pioggia e in campagna una spaventosa tromba d'aria a largo della costa malfitana attraversato lo specchio di mare davanti a Capodorso. Sono gli effetti di un ciclone che sta colpendo il nostro paese con venti forti e nubi fragili. Sono attese precipitazioni intense su Emilia Romagna e Marche ma i fenomeni saranno diffusi anche sul resto delle regioni centrali Sardegna, Basso Lazio e Campania. I venti provenienti dal nord tenderanno ad intensificarsi portando anche una generale diminuzione delle temperature massime specie al centro e in particolare al centro sud. Si avrà dunque una prima ondata di area fredda da est con nevicate a quote medio-basse sull'Appennino centro-meridionale. Sulle zone pianeggianti le temperature subiranno un marcato calo le minime scenderanno su valori compresi tra 0 e 4 gradi su quasi tutte le città del centro nord Roma e Pescara comprese. Al centro sud le massime saranno sempre intorno ai 10-12 gradi ma dalla serata di domani saranno possibili fenomeni abbondanti tra Sicilia e Calabria che proseguiranno anche giovedì giorno che secondo le previsioni potrebbe essere il peggiore di questa fase di maltempo. Papa Francesco risponde alle preoccupazioni espresse da alcune delegate del cammino sinodale tedesco sugli ultimi passi compiuti dalla Chiesa in Germania. Sentiamo Paolo Fucili. Basta col cercare la salvezza in comitati sempre nuovi o discutendo sempre gli stessi temi la Chiesa ha bisogno piuttosto di preghiera, penitenza, adorazione di uscire incontro ai fratelli più abbandonati in strade carceri, ospedali sulle soglie delle nostre Chiese. Parola di Francesco lettera inviata in Germania in risposta a quella di quattro ex delegate del cammino sinodale tedesco preoccupate dei tanti passi concreti con cui grandi parti della Chiesa tedesca minacciano di allontanarsi dal cammino della Chiesa universale. Preoccupazioni anche mie risponde Francesco a cuore aperto. I temi in evidenza sono benedizione di coppie omosessuali celibato sacerdotale autorità nella Chiesa ruolo della donna e sacerdozio femminile. Bergoglio stoppa soprattutto l'idea di un consiglio direttivo da istituire con facoltà decisionali difficile da armonizzare spiega con la struttura sacramentale della Chiesa stesso avviso lanciato un anno fa dal Vaticano alla Germania evidentemente con scarso effetto non avete facoltà di obbligare vescovi e fedeli a nuovi modi di governo e nuove impostazioni di dottrina e di morale. In Myanmar si intensificano gli scontri tra esercito e ribelli una crisi umanitaria senza precedenti domenica scorsa l'appello di Papa Francesco per la pace sentiamo Cristiana Caricato di nuovo la mia vicinanza alla cara popolazione del Myanmar che purtroppo continua a soffrire a causa di violenze sopprussi il paese asiatico è da sempre nel cuore del Papa domenica le parole per ricordare al mondo il dramma del Myanmar e delle sue tante componenti etniche una crisi umanitaria senza precedenti scatenata dalla tensione politica e militare esplosa con il colpo di Stato del primo febbraio 2021 quando la giunta militare mise fine all'esperimento democratico di Han San Suu Kyi da allora un crescendo di scontri tra l'esercito e gruppi etnici armati della resistenza il conflitto prolungato e violento ha generato insicurezza e condizioni di vita insostenibili per i milioni di profughi non solo Rohingya la minoranza musulmana la cui persecuzione è stata più volte denunciata dal pontefice nel Myanmar oggi tutti sono a rischio solo ieri il grido del vescovo di Loikau città nello stato di Kyi per le sofferenze della popolazione Monsignor Celso Bashuè resiste con 12 sacerdoti e 10 religiose nel centro pastorale dove accoglie 37 persone sfollate la città è assediata dall'11 novembre scorso ostaggio delle truppe dell'aggiunta militare da un lato e dalle forze della resistenza dall'altro continuamente sottoposta a bombardamenti indiscriminati caressia evacuazioni forzate attacchi militari hanno portato oltre 60.000 cattolici su 90.000 ad abbandonare il centro per rifugiarsi nella giungla ma la fine degli scontri sembra lontana celebrazione eucaristica oggi a Roma in occasione della festa della Virgo Fidelis patrona dei carabinieri dalla basilica di Santa Maria in Trastevere il presidente della conferenza episcopale italiana Cardinale Zuppi ha detto liberiamoci dall'amore possessivo che distrugge ha osservato il porporato durante l'omeria in un passaggio che richiama la drammatica vicenda di Giulia Cecchettino e parliamo ora di web perché da oggi entrano in vigore nuove norme a tutela dei minori ci spiega tutto Letizia Davoli si chiama Parental Control e il suo obiettivo è proteggere i minori durante la navigazione online bloccando l'accesso a siti classificati come inappropriati dal garante sulle comunicazioni una possibilità già offerta ai genitori ma fino ad ora solo da sistemi app legati a singole società di servizi come il Family Link di Google da oggi invece grazie a una delibera della G-Com il blocco sarà fatto direttamente e gratuitamente dagli internet provider per tutte le sim intestate a minori se invece il contratto è intestato a un genitore per attivare il servizio sarà necessario accedere con lo speed e seguire le istruzioni per quanto riguarda le categorie ritenute pericolose e inappropriate per lo sviluppo dei minori la G-Com ne ha identificate otto quelli che riguardano contenuti per adulti gioco d'azzardo vendita di armi siti che enneggiano alla violenza all'odio e alla discriminazione quelli che promuovono la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche come anoressia bulimia uso di droghe alcol o tabacco e poi gli anonymizer cioè siti che forniscono strumenti e modalità per rendere irrintracciabile l'attività online e infine quelli che riguardano le sette attenzione però ai social esclusi dalla delibera perché già soggetti ad altre normative i social è noto non proteggono i minori in alcun modo la delibera in vigore da oggi quindi per quanto un passo avanti nella tutela dei più piccoli non esclude la presenza dei genitori a fianco dei figli durante la navigazione è una rete in cui il pericolo è sempre in agguato e questa sera Papa Francesco ha raggiunto l'aula nuova del sinodo durante la proiezione del film documentario sulla guerra in Ucraina insieme ad ospiti italiani e internazionali ha visto il film e al termine della proiezione ha ringraziato il regista per la preziosa testimonianza le guerre sono sempre una sconfitta ha ricordato il pontefice dobbiamo essere vicini a questo popolo e pregare perché venga la pace ha concluso poi prima di congedarsi è morta Anna Kanakis aveva 61 anni è stata la Miss Italia più giovane della storia e per un breve periodo è entrata anche in politica vediamo il servizio Miss Italia ha 15 anni nel 1977 poi il cinema ma anche la politica e la breve esperienza come dirigente nazionale cultura e spettacolo dell'Unione Democratica per la Repubblica il partito fondato da Francesco Cossiga padre greco madre italiana Anna Kanakis dopo essere stata la più giovane Miss e aver partecipato a Miss Universo ha intrapreso la strada del cinema passando da Castellano Epipolo a Gerry Calà per arrivare a Luigi Magni e Tonino Cervi la tv delle serie anni 90 come il maresciallo Rocca di Gigi Proietti ma anche la scrittura con romanzi dello sfondo storico a dare la notizia della scomparsa avvenuta a 61 anni il marito dell'attrice Marco Merati Foscarini al quale era legata da 19 anni i funerali giovedì nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma finisce così questa edizione del telegiornale noi ci vediamo domani alle 8 e 30 circa con l'edizione Flash e tutti gli aggiornamenti arrivederci buona serata a Roma a Roma anzarato